Buonasera al San Germano, siamo qui per la finale della Game League tra Ali Tiet e Ali. Grazie per la visione! Attenzione, errore della Ali, la super parata e poi la rete, la rete, si sblocca subito il punteggio. Bello il tentativo, ancora una volta risellitto. Attenzione, palla recuperata da Ali, il sinistro debolissimo di Giaccarino. Il brasiliano con il sinistro, bella l'apertura sulla fascia, ottimo lo spunto e il tiro sul fondo. Dall'avversario però con una ruleta si libera del primo pressing, il lancio lungo per Sellitto, aggancia Sellitto, va con il destro. Murato ancora, passa di testa, attenzione, il sinistro di Giaccarino, deviato, la palla è ancora buona, primicerio sull'uomo, la parata. Ma controlla con la mano, Sellitto cosa inventa? Con il destro, palla sul fondo. Balzano, Giannelli. Un altro passaggio centrale per Giamminelli che può caricare il destro sul fondo. Poi Giacobone lo ferma, Sellitto ci mette il piede, la palla è ancora lì? Lala Lin, Sellitto contro Orseni, il cucchiaio, altissimo, palla sopra la traversa. E cosa sbaglia Sellitto? Il pallone poco ordine, il tegel di primicerio che recupera il pallone, calcia! Goloso! Meraviglioso! Il gol di primicerio, il mago, non a caso lo chiamano così. A vuoto Stagliano, e attenzione alla litiade, il lancio per Balzano. Chiusura di Daniele, però c'è Giannelli che può calciare, e palo! Però ha preso anche il portiere, quindi calcio d'angolo. Gran pa, infatti viene deviato, Giacobone cerca compagni, palla che passa in aria, attenzione! Resta lì, Giaccarino deve spazzare, lo fa nel peggiore dei modi, regala. Balzano supera anche questo, è proprio l'esterno per Giamminelli, palla dentro sul secondo palo! Sul secondo palo c'è Puzio che non sbaglia! La rete del 2-1, la litiade passa nuovamente in vantaggio. Vanore cerca dati, attenzione! Pallone per Daniele, rispinta dal partiere, si addormentano in aria di rigore. Rimpio di Arsenio, poi Balzano. Giamminelli, va sulla sinistra, calcia! E non trova lo specchio! Giamminelli in aria di rigore, viene fermato da Dati, poi la sinistra di Balzano. Apre, attenzione, ora a Giamminelli e può entrare anche in aria. E calcia, non trova lo specchio Giamminelli! Attenzione a Sesellito, calcia malissimo! Ultima chance praticamente! Palla su, sbagliata completamente! Mette e finisce, vince la litiade, il torneo della Young League! 2-1, decisiva la rete di Puzio! Bravissimi ragazzi, complimenti alla vittoria!